Qual è la sua, se l'avete sentito, qual è il suo primo momento? No, l'abbiamo visto. Quando potrà parlare? Sì, abbiamo visto il Presidente del Consiglio, farà domani una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Lì commenterai il risultato straordinario del Partito Democratico e anche del Governo. Un risultato che da parte di Matteo Renzi viene eletto come una grande spinta a continuare nell'opera di cambiamento che il Governo sta imprimendo al Paese.